Benvenuti all'appuntamento di oggi. Nei nostri studi abbiamo Patrizia Favali, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio. Il motivo di questa intervista nasce proprio nel cuore delle inchieste, degli articoli e dello speciale delle Mamme Coraggio che Dire Donne sta promuovendo e che ha proprio creato con lo scopo di seguire da vicino le storie di alcune donne e di alcune mamme. Nello specifico parliamo del caso di Laura Massaro che ci ha visti cercare di intervistare due assistenti sociali che si erano recati presso l'abitazione della signora Massaro per una visita domiciliare al bambino figlio della signora e l'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio nella figura della Presidente ci ha chiesto di potersi esprimere sul caso e quindi garantiamo come nostro dovere il diritto di replica e esaurita questa parte legata al caso Massaro, invece coglierò l'opportunità per fare una serie di domande alla Presidente Favali per conoscere un po' più da vicino alcuni meccanismi di lavoro dei servizi sociali. Allora benvenuta Presidente innanzitutto, le vorrei chiedere appunto proprio partendo dal caso della signora Massaro, motivo per cui lei ha chiesto di essere qui nei nostri studi, ora ci spiegherà, ma intanto vado con una prima domanda. Perché quel giorno le due assistenti sociali dopo essersi qualificate al citofono sono andate via senza eseguire la visita domiciliare? So che lei vuole spiegare questo anche. Allora, le due assistenti sociali si sono trovate di fronte a una situazione molto particolare che a mia memoria non avevo avuto mai modo di trovare analoga. Cioè hanno dietro la porta della casa della signora Massaro hanno trovato una serie di persone, tra cui anche dei cameraman, dei giornalisti. Però chiaramente andare a fare una visita domiciliare in quella situazione necessita di una situazione di tranquillità. Loro dovevano andare nella casa per parlare con il bambino, per capire come mai il bambino non andasse a scuola. Io riferisco tutti i dati che sono ufficiali, perché ci tengo a sottolineare che io non ho notizie altre rispetto alle notizie che sono state ampiamente pubblicate dai giornali e riportate anche nel comunicato che il lunedì successivo ha fatto poi il decimo municipio. Si sono ritrovate in una situazione in cui era impossibile per loro eseguire in tranquillità, con riservatezza e privacy l'intervento che dovevano fare. Quindi hanno scelto, credo anche abbastanza ripentivamente, avendo visto il video, di andarsene. Presidente, mi perdoni, non avrebbero potuto chiedere alla stampa di accomodarsi fuori e di fare la loro visita? Certo, l'avrebbero forse potuto fare, però credo che la situazione fosse intanto, è stata inaspettata per me, sarà stata inaspettata anche per le colleghe, perché la signora, la mamma del bambino, sapeva perfettamente, perché gli era stato comunicato per iscritto, come lei aveva richiesto, che le assistenti sociali andavano e sarebbero andate per una visita domiciliare per capire la situazione del minore. Cosa che riferisce il maestro municipio, cosa che riferisce la stessa signora Massaro nell'intervista che voi le avete fatto, credo, non so se il giorno prima o il giorno stesso, allora era chiaro che loro andavano in un certo contesto, si sono trovati in una situazione totalmente diversa e hanno ritenuto che non ci fossero le condizioni per procedere in quel modo. E hanno, forse è una, come lei dice, delle possibili scelte, ma è una scelta che doveva garantire la riservatezza dell'intervento e anche il mantenimento comunque del segreto professionale, perché, io lo ricordo a tutti, gli assistenti sociali sono tenuti al segreto professionale, quindi se i genitori o i diretti interessati possono riferire questioni dal loro punto di vista sulla situazione, certo gli assistenti sociali non lo possono fare in alcun modo. Da questo punto di vista si capisce anche il fatto che le colleghe sono andate via repentinamente, allontanandosi il più possibile da quella situazione e che le domande che gli sono state poste, dal mio punto di vista, sono state inappropriate. È inutile dire, si erano venuti, come mai, perché non fate, perché... Potevano dirci che dovevano fare una visita domiciliare, Presidente, non c'era nulla di male, stavano facendo il loro dovere. Potevano tutti, l'aveva detto anche la signora che, certo che stavano facendo il loro dovere, credo che abbia avuto il sopravvento, l'idea di non in alcun modo intervenire in quella situazione per temere di dire quella parola in più che uno non può dire. Che stavano facendo la visita domiciliare era chiaro a tutti, hanno suonato, la signora ve lo aveva già detto e loro immagino che lo sapevano, di fronte a questa situazione di assoluta poca possibilità di fare un intervento se ne sono andate. Intervento che ribadisco che in nessun altro contesto si sarebbe potuto verificare in quel modo, perché comunque la visita domiciliare, anche se è al domicilio, è comunque un intervento professionale. Non è che i giornalisti possono stare dentro le scuole, dentro i servizi, dentro gli ospedali o se c'è, mutuando da altre professioni, se c'è un intervento chirurgico particolarmente interessante possono stare dentro. Presidente, certo, questo è vero, è un'attività professionale, però mi permetta di ricordare anche perché siamo entrati nel cuore della vicenda, non è detto che tutti per quanto il caso sia noto la conoscano. Ricordiamoci che dall'11 ottobre c'è un decreto esecutivo del Tribunale dei Minori che prevede il collocamento del bambino della signora Massaro presso il padre con supporto dei servizi sociali H24 per aiutare la diade padre-bambino e qualora questo non funzionasse il bambino dovrebbe essere portato per un periodo in casa famiglia. Quindi chiaramente la visita domiciliare si inserisce in un periodo in cui si aspetta da un momento all'altro, perché l'udienza d'appello è stata fissata per il 17 dicembre, quindi da un momento all'altro attendono il prelevamento del bambino. Quindi è chiaro che la visita domiciliare si colloca in una fase... Sì, ma dire che la visita domiciliare era il prelevamento è una forzatura che nessuno può fare perché il decreto che lei giustamente ha citato, come dice il decimo municipio, prevede che ci sia il pediatra, lo psicologo, le forze dell'ordine e non solo due assistenti sociali che vanno annunciando che andavano a vedere come stava il bambino. Tra l'altro so che è prassi che la stessa polizia senta il genitore per cercare di concordare delle modalità, insomma no, non so se nel caso della signora è stato fatto, ma spesso la stessa polizia, che è tenuta ovviamente a dare seguito a un prelevamento del giudice, chiama il diretto interessato, in questo caso la madre, per cercare di concordare, perché il concordare un allontanamento è sempre la procedura migliore per evitare... Anche perché il bambino vive dall'11 ottobre a questa scadenza del 17 dicembre, immagino che ogni citofonata, che ogni campanello che suona ovviamente... Però se ci fosse stata la visita domiciliare, forse queste cose le assistenti sociali le avrebbero potute discutere con il bambino, che in questa situazione sente la madre, soltanto la madre, il che va bene perché è la madre per carità, ma forse deve sentire anche le voci degli altri, forse per farsi una sua idea. Allora andare lì poteva voler dire anche parlare di questo, delle paure che la signora riferisce che il bambino ha e che ci credo che il bambino ha... Certamente in questo periodo chi paga un prezzo alto è questo bambino. Non è che ci sono anche scuole di formazione, presidente, sulla PAS e corollari? Lei come professionista ha una posizione nel merito? Allora io devo dire che davo abbastanza per scontato che la PAS come sindrome fosse ormai acclarato che non ha nessun fondamento di rilievo. Ecco, quindi io su questo lo davo abbastanza per scontato e devo dire che sono rimasta anche abbastanza colpita che nel caso della signora Massaro venisse citata con questa rilevanza. Non ho letto le carte, per cui non posso dire se il giudice ha usato o ha parafrasato questa questione. Quello che io so è che sicuramente così come il genitore che dice che il bambino gli è stato allontanato perché era povero, mi mette un po' dubbio che il motivo centrale, il motivo principale, l'unico motivo sia questo della PAS. Io credo che su questo anche i giudici siano abbastanza d'accordo. È chiaro che esista all'interno del rapporto eventuale, rapporto conflittuale fra i genitori, possono esistere delle modalità di… D'altro canto però, presidente, un rapporto conflittuale è una cosa, un rapporto di violenza, ad esempio dove c'è una subalternità di un genitore all'altro, il bambino magari non vorrà vedere il padre perché avrà subito violenza assistita, per esempio. Sì, anche se purtroppo le situazioni da questo punto di vista sono molto complicate, nel senso che i bambini in generale hanno un legame molto forte ovviamente con i loro genitori, anche noi ce lo ricordiamo, se non siamo genitori siamo comunque stati figli, insomma. Quindi il legame è comunque molto forte, per cui assistiamo a situazioni in cui anche lì dove, per esempio, come lei citava, c'è stata una violenza assistita, magari il bambino non si schiera dalla parte del padre perché è molto difficile per un bambino comunque prendere una posizione rispetto ai propri genitori, allora è giusto che vengano sentiti perché per carità, anche la legge lo dice, hanno possibilità di discernimento, vanno sentiti, però non si può dire, il bambino dice che vuole stare con il padre e allora è giusto che vada con il padre, no, bisogna capire qual è la situazione generale e capire. Questo è il compito del giudice, il giudice si deve fare un'idea utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, l'inchiesta socioambientale degli assistenti sociali, piuttosto che una perizia ulteriore, proprio per capire quel bambino in quella situazione come sta vivendo e qual è il bene possibile per lui.